Il 28 aprile, presso la scuola parrocchiale Don Orione di Botticino, il Vescovo Monari ha incontrato gli studenti. Nel suo intervento il Vescovo ha sottolineato l'importanza del ruolo della Chiesa nella formazione dei ragazzi. Quel legame che ci deve essere tra tutte le realtà sociali, istituzionali, che si interessano dei ragazzi e dei giovani nel loro cammino di formazione. Perché il cammino di formazione è certamente l'elemento più delicato e più importante nella costruzione di una società del futuro. Don Luigi Orione, colui che dà il nome alla scuola, nacque a Ponte Curone, ad Alessandria, nel 1872. A soli vent'anni, quando era un chierico, iniziò a interessarsi ai bambini poveri e, grazie a preti, suore e laici, fu il fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza. La scuola parrocchiale di Botticino segue i suoi insegnamenti. La responsabilità della Chiesa è educare i giovani e garantire adeguate risposte alle esigenze culturali e formative degli alunni. È molto importante che la scuola, come realtà educativa, possa aprirsi sempre di più al territorio e che la comunità cristiana si apra al mondo della scuola. Lavoriamo e collaboriamo per l'educazione degli stessi ragazzi e degli stessi giovani. Il fatto che una scuola chieda a un vescovo di potersi incontrare e che un vescovo decida di entrare in una scuola è un segno bello di una vicinanza per un patto educativo in vista di una migliore collaborazione di fronte alle giovani generazioni. In fondo siamo portatori di una grande tradizione, la cultura scolastica, la cultura cristiana ed è possibile insieme darci da fare per trovare il meglio per il futuro dei giovani che ci sono affidati.